buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di gradatorie per le supplenze le gradatorie provinciali le cosiddette gps aggiornamento per il bienio 24 26 siamo ormai arrivati al dunque nella settimana tra il 15 e il 20 di aprile partirà la compilazione della domanda e si andrà a protrarre per 20 giorni successivi alla partenza dunque per tutto il mese di aprile e almeno la prima settimana del mese di maggio andiamo a rispondere alla domanda numero 1 i docenti già inseriti per l'anno scolastico 2023 2024 in elenco aggiuntivo prima fascia perché abilitati o specializzati sul sostegno dovranno fare un nuovo inserimento della gp gps prima fascia o un semplice aggiornamento della propria posizione nella procedura di compilazione della domanda gli aspiranti già inseriti in prima fascia gps anche se solo degli elenchi aggiuntivi dell'anno 2023 2024 dovranno semplicemente aggiornare la domanda dell'inserimento in cps prima fascia già avvenuto in elenco aggiuntivo potranno quindi far valere il titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguita come titolo per le altre classi di concorso l'aggiornamento è diciamo una procedura più agevolata rispetto al nuovo inserimento dunque saranno avvantaggiati coloro che si trovano nel elenco aggiuntivo nel ritrovarsi ad aggiornare una posizione di cui avevano già dichiarato servizi e titoli andiamo alla domanda numero 2 sono abilitata con il concorso ordinario 2020 in classe di concorso al 017 disegno storia dell'arte nella scuola secondaria di secondo grado potrò far valere questa mia abilitazione per inserirmi in gps prima fascia anche per la 001 cioè arte immagine scuola secondaria primo grado diciamo che con il decreto ministeriale 255 del 22 dicembre 2023 riguardante la revisione l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli docente della scuola secondaria di primo e secondo grado l'abilitazione per la classe di concorso a 017 da diritto ad avere anche l'abilitazione per la classi concorso a 001 quindi il docente già abilitato per la 017 potrà tranquillamente inserirsi come abilitato dunque in prima fascia anche per la classe di concorso di arte immagine a 001 passiamo all'ultima domanda sono iscritta al quarto anno di scienze della formazione primaria e ho conseguito 162 cfu crediti formativi universitari e voglio sapere se potrò iscrivermi in seconda fascia gps della scuola primaria e e e e o anche dell'infanzia a a a a per inserirsi la seconda fascia gps infanzia primaria è sufficiente essere iscritti al terzo anno accademico e avere conseguito almeno 150 cfu quindi nel caso in specie la risposta è affermativa ti puoi inserire in seconda fascia gps per la sia la scuola primaria sia per l'infanzia speriamo che le risposte date siano utili ai nostri telespettatori per l'aggiornamento delle gps di prossima emanazione e con l'occasione salutiamo tutti i nostri telespettatori arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti